Sì, Presidente, io sarò rapido. Intanto volevo fare un appello a tutte le forze e ringraziarle per la disponibilità che stanno dando nel permettere poi all'amministrazione tutta di dare ai cittadini la possibilità di mantenere pubblici dei depositi che sono fondamentali per poter sviluppare quello che è la mobilità elettrica. Li ringrazio anche per il contributo dato in questi giorni al fine di migliorare in qualche maniera e definire bene il percorso e anche richiedendo questa modifica al POMS con queste specifiche e nulla, mi fermo qui. Mi sento solo di fare un appello alle altre forze di andare avanti insieme per concludere questo atto fondamentale che va chiuso in tempi rapidi per permettere poi tutte le altre attività necessarie al fine di fare la controfferta come amministrazione per gli immobili che sono stati assegnati all'asta. Grazie.